Partito con qualche attimo di ritardo Guadano 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 Partito con qualche attimo Partito con qualche attimo di ritardo Partito con qualche attimo Partito con qualche attimo di ritardo molto contento del tempo ottenuto peccato un piccolo errore per una dimenticanza di tracciato però già per la prima volta l'asila a fare 48 è un tempo ottimale Racing Start Plus 1.4 primo classificato Budano Domenico Moto Team Nissan e grazie per la presenza bravo! bravo!